Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia che non mi mancherà di questa season aspettate perché a quello dentro la macchina io faccio una bella sorpresina ma sono contro questi di maure fermo all'interno della macchina riesce a scappare e sparò lì dove non faccia il sole venga qui mi faccia vedere chi faccia vedere chi la sta guidando vieni qui brutacchioso uomo calmo calmo calma di un attimo ok 14 golosissimo no mi sparando il tito della macchina ma io dico no 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 ok ha cerchiamato tutti ciao belli grazie grazie mille non voglio avere niente a che fare con voi o mio dio ok mi stanno sparando tutti o no no i razzi del bruto no i razzi del bruto no i razzi del bruto no c'è qualcuno anche da qualche parte ok stanno sparando ci stanno macerando ok signorino buonanotte sta sparando contro qualcuno che è da quest'altra parte eccolo qua e la wow wow fermi fermi e la e la o cocco del buonanotte noi abbiamo pochissima vita in pratica siamo ufficialmente deceduti e ritorna il bruto e ritorna il bruto no 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 brutto 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 calma di calma di signor brutto ok dobbiamo scomparire da qua dentro il bruto ha chiuso e proprio qua sotto buonanotte dove diamo ok il brutto ha chiuso è lì ma noi ora abbiamo un rt posso sparare proprio lì dove lo fa se le signorina non credo avviarmi o mio dio finalmente ce ne siamo sbarazzati con questo mega boom ma stanno sparando altri che diavolo sto succedendo lì ci sono delle build non penso che ci sia altra gente almeno lo spero eccolo la come non detto come sono due però sono due sono due sono due sono due anche abbastanza cattivi questo non ci sta capendo niente buonanotte anatroccolo fammi vedere quest'altro che quest'altro è peggio dell'amico arrivederci signor matteo arrivederci grazie uomo le granatine no le granatine però no le granatine però no e la signorino occhi a full shield altrimenti sarebbe stato un big problema signori miei ultimo giorno ufficiale all'interno di questo capitolo 2 già mi sta mancando perché è passato velocissimo a differenza di tutte le altre season che non lo so non vedevo l'ora che finivano questa se durava un altro po ecco non mi sarebbe dispiaciuto ma come tutte le cose belle a un inizio e una fine come questo mega carro armato che prima paella ti ho bucato ma che diavolo di playerini sta incontrando oggi ma mi vuole proprio bene for trade per l'ultimo giorno ok arrivederci guarda l'amico che viene qui non ci provare non ci provare scendito scendi giù scendi giù scendi no ho detto no occhio fermi ma quanti ma signori guarda diavolo di bacchina ci sono questo è un fenomeno però è questo fenomeno non è per niente male occhio c'è un'altra macchina voi dell'ultima sotto ci dobbiamo sbarazzare subito di questo tizio guardiamo quelli lì ok quelli sono due quelli sono due sono altri due non ci dobbiamo far vedere siamo finta come se siamo pulcherati ma avranno sicuramente al cento per cento visto le build no così no no così no avevamo iniziato benissimo ci volavamo tutti bene occhio aiaia brutto 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 quello non è male quello lì non è male assolutamente qua sotto ci sono i due pelle ieri di prima sicuramente sono stati restati di là o è stato ancora e anche se hai del mattone io ti in fuoco lo stesso zio facciamo una cosa io me la scappo ciao belli eccoli 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 di nuovo eccoli di nuovo o no 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 è un mio dio sono dei teppisi della strada vediamo se facciamo qualche occhio che si sta già per auto distruggere fatemi capire però chi è sopravvissuto e chi meno perché ok due sono all'interno di quella macchina ma c'erano altri due sotto di noi che secondo me niente non ce l'hanno fatta proprio credo proprio di no vediamo se riusciamo a sciagallare almeno qualche bella così tipo o sparano faranno ancora a chiocchio l'abbiamo di ritornato lì c'è un qualche volatile qualche po questo è quello di prima che c'è anche l'amico questi sono bravi è ci sono molto molto altri spammoni vogliono buttare giù tutto scontato scontato ci sono anche riusciti ok va bene bravi bravini 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 o dove vai dove vai non ci provare signor gilberto non ci provare che ti spanno più io è una gara tra chi spava di più il problema che mi stanno la miseria e questo diavolo l'aveva visto occhio salve salve sorpresatina non te l'aspettai questa attacca sorpresa ok io purtro ma da dove ci sparano i vigliacchi di prima sono i vernici attori di prima quelli di quella sopra maledetti dobbiamo usare che dobbiamo dare assolutissimamente occhio hanno giampato di poppa tanti stanno sparando anche qua davanti proprio a noi dove diavolo sta spaventando ok ecco l'eccolo arrivederci uno ci insegue con la macchina è il tizio di prima erano quelli che abbiamo dovuto lasciare vivi state calmi state calmi un attimino ok c'è una macchina dietro di loro non si provare cucciano alla miseria è buono se guanit se guanit sei sotto succedendo di tutto non abbiamo tantissima ci siamo in botte ma che diavolo diavolo di roba stiamo vivendo ora sto ricaricando le armi dannazione questi non sono per niente male allora qualcuno a il mega che stanno tutti qui stanno tutti qua io devo chiedere questo tizio qui ok molto molto buono quasi quasi o ma riusciamo ad andare qua sopra fermi che facciamo un trick assurdo sì ok buono lì chi è uno il fucile quello che fa malissimo qui ci sono delle spazzette che ci servono assolutamente se facciamo al volo dobbiamo andare a prendere materiali ci saranno materiali o ma chi diavolo è con il fucile guarda qui quanta roba porta qui quanta roba di prego prendi tutto ti prego prendi tutto oh bello sto b90 ring si materiali 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 o mio dio doppio b90 oro ma che diavolo è la sagra del lutto estremo è forte che ci vuole bene ma non ci ha dato per niente ma ma questi non è uno mazzo per niente erano degli sfigatozzoli ok va bene va bene va bene usciamo fuori c'è qualcuno dobbiamo fare attenzione che è il mega fucile e fa malissimo ok stanno sparando qua davanti il bruto sembra che non lo stia utilizzando nessuno o è appena deceduto qualcuno devo capire chi è il tizio con il mega fucile o belli questi due che stanno andando a prendere il lutto e la 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 il signorino buonanotte questo non c'è stata di niente questo non c'è stata di niente molto molto buono ok lo dobbiamo villare al volo perché gli serve assolutissimamente il loro loot ma tutti hanno il campo dei desideri bello questo porca la miseria ok sappiamo da dove arriva ok guarda lì lassopra si sono buccherati due vicidi va bene va bene va bene l'importante è che li abbiamo scoperti e che ora abbiamo tantissimi materiali ora vi vengo a prendere cucciolini sono sparando a tutti poi i vigliacchi si ammese a quelli alla loro destra prima però vorrei accertarmi che non abbiamo nessuno siamo ancora noi preglierini vivi in realtà siamo un bel po o no potrei rispondere al fuoco con la loro moneta e io quasi quasi gli rispondo proprio con la loro moneta non c'è preso ok c'è un altro fatto fortunello ti prego e boom a e ora ti è piaciuto però questo gioco subito a prendere ci stanno sparando altri non capisco dalla destra ok 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 ci avviciniamo in silenzio e sottovoce perché loro non si aspetteranno mai di questo mega push dalla parte destra però gli facciamo capire che ci sono andati se ne sono andati è molto molto furbi molto molto astuti e signori miei mentre capiamo che cosa dobbiamo fare mi raccomando per supportarmi al massimo all'interno anche del capitolo 3 inserite all'interno del negozio oggetti il codice più fresco del centro italia r4 ok sparano 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 qua tanti molto molto buono probabilmente sono i tizi di prima perché ormai l'addio non ci sono si sono giampati in qualche maniera io non mi sono accorto si sono riboccherati ma questi sono dei verbi giocano solo e solamente così occhio io lo voglio fare io lo voglio fare io lo voglio fare io lo voglio fare io lo devo assolutamente prendere ok andiamo sopra andiamo sopra ho droppato il p90 che lo sapete lo adoro però io voglio fare una mega cecchinata o più un esceso vieni qua la bellina no 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 tanto buono no tanto buono ok ok non andavo per niente bene il nostro piano però li possiamo stare tranquillamente ora tranquillamente state calmi che è buono qualcuno è deceduto usando qualcun altro non capisco chi e la e la gazzonna gazzonna sia buono qui alla nostra destra siamo 6 non ci sono più i tizi di ok la dentro quel box bello sto moscerino che bianco aiaiaiaia quello è bianco però è buonissimo questo è un pivellino ok oh 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 di chilo un amico di chilo un amico almeno di innervo si riusci io so esattamente dove sei qua dietro e chi sta citato ma che è un bello uguagliore si voleva fare il medikit e laggiù andiamo subito ancora il fucile mega potente hanno questi ma allora non sono questi due che diavolo sono i tizi che c'è chi navano sopra quella collinetta a parco pacifico ma sto b90 ce l'hanno tutti un bello toscar e niente signori il gioco di fortnite si vuole bene ultimo game stiamo trovando di tutto ho fatto un impiccio però che sono sicuramente lì vigliacchi ok siamo tre playerini questo è quello di prima che girava ho trovato un po di scelte ma non ammazzo ma non ammazzo ma non ammazzo buonanotte però era contro e allora vanno a prendere si chiude così il nostro o questo è bravo ti prego non mi far perdere l'ultimo mio game non mi far perdere l'ultimo mio game ma sei tranquillo ok no forse si auto vicino vediamo vediamo lanciarà si faccia per te ok no e buonanotte susanna susanna seria vedi qua susanna susanna buonanotte susi 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 tornate da soggetti il codice più fresco del centro italia r4 sco baby iscrivetevi al canale attivate la campagna delle notifiche troppo bella furbetto se ancora non l'avete fatto ora vi lascio due video bomba davanti il vostro schermo ci vediamo domani con il video dell'evento finale capitolo 2 noi ci vediamo prestissimo con tante altre news e le strade ciao